buongiorno a tutti allora proseguiamo con la coppa d'africa con le partite del gruppo f primo turno quindi concludiamo definitivamente con questo video il primo turno della coppa d'africa poi ci sarà il secondo poi ci sarà il terzo poi naturalmente vedremo le squadre che supereranno il turno e andranno oltre anche qui credo che sei gironi dovrebbero passare le prime due e le migliori quattro poi faranno ottavi quarti semifinali e finali controllerò non ho guardato ma presumo che vada così non penso facciano passare solo le prime due perché se no ne restano 12 dovrebbero rifare o fanno altri tre gironi da quattro o se no naturalmente devono arrivare a 16 per fare ottavi quarti semifinali finali lasciamo perdere partiamo subito con cameron guinea bissau perché finalmente i miei like mi hanno regalato una buona partita qualche buona occasione due squadre che hanno provato entrambe a segnare a vicenda anche se dopo i primi un quarto d'ora in cui attaccava il cameron attaccava la guinea attaccava il cameron attaccava la guinea dopo attaccava solo il cameron il problema è che il cameron attaccava attaccava aveva anche delle buone occasioni ma al momento del tiro la palla andrà a prendere il piccione o l'omino delle bibite quindi al termine del primo tempo la partita si mantiene sullo 0 a 0 anche se tranquillamente il cameron poteva già essere in vantaggio e quindi probabilmente Seidolf che è l'allenatore del cameron avrà avuto qualcosina da ridire ai suoi ragazzi perché lui certe occasioni e non le sbagliava mica comunque il secondo tempo comincia e il portiere del cameron dopo aver visto i palloni che andavano un po' non verso la sua porta o comunque verso la sua porta ma non nello specchio inizia a fare gli straordinari perché prima salva su un tiro raso terra e lo mette in calcio d'angolo poi si lancia sull'attaccante avversario che gli stava più un bando addosso e riesce a respingere ma poi a furia di dai e dai il cameron passa perché c'è un calcio d'angolo palla che arriva sul secondo palo il difensore non ci arriva a colpirla di testa in compenso ci arriva a colpirla di testa banana banana e si chiama banana non è mica colpa mia al 66esimo banana di testa la schiaccia il difensore sulla riga prova comunque a metterci il piede per salvarla la respinge ma la palla termina comunque sotto la traversa perché dopo la sua deviazione si innalza e va in gol quindi cameron 1-1 guinea 0 non fa ne in tempo ad esultare per il primo gol che arriva anche il secondo perché su un cross c'è il difensore che giustamente ha piazzato bene sul primo palo l'allontana di testa mettendosi un po' a tra virgolette 90 dunque la colpisce di testa la palla ha la sfortuna di terminare sulla gamba di un suo compagno che praticamente la rimette verso la porta la sua porta e lì c'è lì bello pronto bahoken che naturalmente gli arriva la palla cosa fa allarga il piedino destro incrocia nell'angolino è a 6-7 metri anche meno dalla porta e batte il portiere per il 2 a 0 quindi cameron guinea 2 a 0 nulla da eccepire risultato giusto perché comunque il risultato è giusto vedendo anche gli highlight che mi hanno mostrato sapete benissimo che gli highlight che mi stanno facendo vedere fanno vedere tutto tutto ciò che succede me lo fanno vedere poi dopo naturalmente se non c'è più niente di eclatante il risultato è già conclamato magari al 75 esimo gli ultimi 15 minuti mi evitano l'agonia ecco per intenderci però mi ripeto mi fanno vedere anche delle azioni che francamente non mi dicono nulla comunque andiamo a vedere invece l'altra partita del ginorone che è stata gana benin e subito pronti via c'è la surprise perché benin passa in vantaggio praticamente c'è questa azione di contropiede palla nella metà campo ancora del benin lancio rasoterra filtrante che potè 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 e gli potè prende subito sta palla sono partiti in due due compagni di squadra e due o tre difensori che li seguivano sono partiti in posizione regolare lui prende la palla punta l'area di rigore si fa praticamente mezzo campo palla al piede tocco morbido a fare il tunnel al difensore che gli è andato incontro e poi tocco ancora morbido con la punta sull'uscita del portiere per batterlo quindi potè porta in vantaggio il benin gana 0 benin 1 non fanno il tempo ad esultare che al nono arriva il pareggio del gana c'è un cross basso dal limite dell'area di rigore il difensore lo devia andrea you prende la palla che è l'attaccante giocatore del del gana finta sul difensore tiro pronto dall appena dentro l'area di rigore dritto per dritto sul palo il portiere si tuffa la riesce appena appena a toccare ma la palla va dentro lo stesso perché gliel'ha messa forte sul primo palo e nell'angolino quindi il portiere per quanto si allunghi per quanto riesca a toccarla la palla gli scappa dentro quindi dun 1 a 1 e palla al centro la partita dopo 9 minuti subito scoppiettanti diciamo che si tranquillizza tra virgolette perché comunque entrambe hanno occasione un po da una parte un po dall'altra ma nulla di eclatante al 42esimo l'altro a you a you jordan jordan c'è questo lancio lungo il difensore cosa fa la prendo io la palla non vai tu in porta col pallone prendo io mette il piattone per fermare questo lancio rasoterra e c'ha di fianco l'attaccante problema è che prende il piattone ma la palla gli passa su oltre quindi andrea you cosa jordan a you scusate gli ruba palla entra in aria e poi sull'uscita del portiere tiro un tiro dall'alto al basso che si infila proprio sotto l'incrocio dei pali e porta in vantaggio il gana nel secondo tempo si fa espellere boyer al 54esimo e benin ne approfitta perché calcio di punizione al 63esimo più o meno dalla tre quarti alla destra del portiere tocco morbido per un compagno che cross a basso sul cross basso interviene un'altra volta potere ad anticipare il difensore lui era praticamente a 6 metri 7 metri dalla porta arriva questo cross basso perché nessuno ha pensato di andare a chiudere ha messo la barriera lui cosa ha fatto punizione passaggino al compagno che tira cross a basso potei anticipa ancora col piedino il difensore che prova ad andare in contrasto palla che va verso la porta tiro ravvicinato il portiere riesce a malapena a mettere la gamba ma la palla termine in rete nonostante il gana sia in 10 prova comunque a riportarsi sul 3 a 2 ma non c'è nulla da fare c'è una rovesciata molto bella c'è da segnalare anche un bel calcio di punizione dalla distanza abbastanza dotevole siamo sui 25 30 metri però il tiro è verso l'incrocio il portiere vola lo respinge e salva comunque la porta del benin che nessuno si aspettava riuscisse a fermare il gana tra l'altro il benin vi chiamano gli scogliatoli ho letto prima che vi chiamano gli scogliatoli quindi gli scogliatolini hanno fermato il gana sul 2 a 2 quindi vedremo poi nelle altre partite come andranno le questioni intanto il camerun è bello felice al primo posto bene vi ho raccontato anche le partite del gruppo f adesso con calma poi vedremo il secondo turno come andrà in giornata questa sera ci sarà la partita la prima partita del quarto di finale tra norvegia e inghilterra ci sono altre partite c'è l'under 21 che gioca anche oggi 17 45 e 21 ci sono le partite dell'under 21 le due semifinali la germania contro la romania e la spagna contro la francia quindi staremo a vedere cosa succede prosegue anche la coppa america se non sbaglio perché stanotte alle 2 30 cioè nella notte tra giovedì e venerdì c'è la prima c'è il primo quarto di finale venerdì alla 21 c'è l'altra si riparte alla grande e adesso dovrò ripartire velocemente a fare video per stare dietro a tutte le manifestazioni che sto seguendo quindi magari lascerò un attimino in disparte adesso la la coppa d'africa per raccontarvi le altre competizioni ma naturalmente poi riprendo anche le loro partite detto questo io vi saluto vi ringrazio vedo che cominciano a piacere i miei video ho visto quasi 500 visualizzazioni su uno sono rimasto esterefatto vi ringrazio io proseguo finché mi seguite io proseguo anche se mi segue anche solo una persona io vado avanti non faccio l'esaltato che oddio mi hanno seguito solo in 15 smetto io basta che mi segua qualcuno e per voi questo e altro ciao